Stamattina siamo al Comune di Napoli con l'assessore Tomaselli, una giornata importante, lei come medico avrà veramente piacere di quello che stamattina si discuterà in sala giunta. Sì, in effetti il sindaco già da tempo ha espresso la volontà di riappropriarsi di un ruolo del quale tutto sommato era stato, non lui ma come sindaci erano stati esautorati e cioè quelli di tutore della salute pubblica e se deve essere il tutore della salute pubblica deve sicuramente avere delle strutture che supportano questo ruolo.